Donne per Napoli, Carpisa, Yamamai. Giunto alla quinta edizione si è tenuto sul palco del duel di Agnano. Il riconoscimento, voluto dal patron di Carpisa, Lello Carlino, realizzato con Italo Palmieri e la direzione artistica di Lorenzo Crea, è stato condotto quest'anno da Veronica Maia. La tarta rugadoro è stata consegnata alla vicepresidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna, per la sezione istituzioni, a Rossana Pasquino, allo sport, Maria Celeste Lauro, per l'impresa, Alessandra Barone, per il giornalismo, Emilia Zamuner, per la musica, Anna Maria Minicucci, ricerca e medicina, Anna Maria Schena, per il sociale, Denise Capezza, attrice per il mondo dello spettacolo, e la modella Siselis Deliesi, integrazione napoletana dentro. Il premio per la sezione modi è andato alle donne vestite dallo stilista Gino Signore, un premio speciale, è stato assegnato a Ornella Spoleto, dipendente di Carpisa. Tanti ospiti doc, tra questi l'attore Gino Rivieccio, il soprano Giulia Burduli, e le squadre del Napoli femminile Carpisa Yamamai di calcio, attualmente prima nel campionato di Serie B, e Carpisa Yamamai acqua chiara di pallanuto maschile e femminile, musica dal vivo a cura della band Ecclesi di Soul, e DJ set di Dario Guida, accompagnato da violino e sax.